Filini fissò il campo da tennis per la domenica più rigida dell'anno. Dalle 6 alle 7 ante lucane. Tutte le altre ore, man mano che si avvicinava al mezzogiorno, erano già occupate da giocatori di casta sempre più elevata. Direttori clamorosi, ereditieri, cardinali e figli di tutti questi potenti. Di qua! Ragioniere, sono qua! Di tutta parte! Venghi, venghi! Ma... Ma cosa fa? A momenti sbatteva. Entrando a quell'ora, negli sfogliatoi del park tennis, li trovarono tre giocatori rimasti lì dalla sera prima. Giorno! Giorno, no... Vadi, vadi. Si è messo al fresco, vero? No. Abbigliamento di Filini. Gonellino pantalone bianco di una sua zia ricca, maglietta lacoste pure bianca, scarpa da passeggio di coio grasso, calza scozzese e giarrettiere. Doppie racchettine Liberty da volano. Fantozzi! Maglietta dello giri, mutanda a scellare aperta sul davanti, è chiusa pietosamente con uno spillo da balia, grosso racchettone 1912, elegante visiera verde con la scritta Casino Municipale di Saint-Vençon. Eccoci. Lei preferisce giocare di qua o... Oh, facci lei. Allora io sto di qua. Prego. Perché lì è contro sole. Allora ragioniere, che fa? Batti? Ma... Mi dà del tu? No, no, dicevo... Batti lei? Ah, congiuntivo. Sì. Aspetti. E allora? Un momento. Pronti? Ready. 15-0. Ma come 15-0? Ragioniere, io sono qua. Qua. Ah, perché pensavo che lei fosse... Pronti? Pronti. Batti? Per una buona battuta, piegare bene le ginocchia, piede sinistro in avanti, impugnatura martello, rotazione del buste, a combiolenza! Che fa ragioniere? Si arrende? Si ritira? Bene! Yuhuu! Già che ci siamo, diamo anche una botta alle righe. Pantozzi abbandonò l'idea dello sport, ma non la decisione di rimagrire. e poi ci siamo. Grazie a tutti.